E magnateve la cicoria, ciao ragazzoli sono Grax, bentornati su Brawl Starts, quest'oggi con l'episodio tanto atteso, quest'oggi non sono solo, sono con Nemo Setti come sempre Sì, sì, sono qua poi Appuntamento standard ragazzoli, credo sia la seconda volta in questa settimana, è il delirio Tornaremo, più potente che mai, ma quest'oggi non siamo soli, non siamo in duo, ma siamo in tre Super team, con Paolo The Best, ciao Paolo! Ciao a tutti Benvenuto nel team carissimo ragazzi, vi stai richiedendo ma chi è Paolo? Boni regà, boni per chi vado un attimo in classifica, locale, se mi carica perché mi sta, ok eccola qua Locality, ragazzi in questo momento è il primo in Italia, vi faccio vedere l'account, nel frattempo Complimenti Paolo per il fantastico traguardo, mi raccomando distruggi sta stagione 15.436 coppe, 756, il brawler più alto che Bull, ma li ha tutti quanti, quasi tutti over 700 Quasi tutti over 600, tranne gli ultimi due che sono Beryl e Mortis Ma sei un mostrone caro Paolo Palese, palese che un mostrone, tra l'altro quindicesimo in globale, cioè vorrei dire Ah è vero, questo non l'ho neanche visto Vorrei dire Mamma mia, mamma mia Questo oggi ovviamente, solito video, cosa succede se Grax gioca con il primo in Italia insieme a Nemos Però lo facciamo leggermente più strano rispetto a quello con Tano con il secondo in Italia Perché con Tano abbiamo giocato con i secondi account In questo episodio giocheremo con i secondi account Però la prima battaglia la facciamo con i primi account Sdang Siete pronti? Già sento il profumo del drop Ragazzi utilizzerò stecca di livello 5 per questo contenuto incredibile, mi raccomando Un bel pollice all'insù Quanti like Nemos, quanti like Paolo, dobbiamo sfondare qui 70.000 80.000 come l'altra volta, mi raccomando ragazzi Sì, sì, sembra giusto E come sempre, l'iscrizione al canale, trovate tutto quanto il bottoncino qui sotto L'iscrizione al canale Nemos è sempre in descrizione E non so Paolo se hai qualche social, come spammare, Instagram No, Instagram Però ho il profilo reale Perfetto E sgancia Ve lo metto in descrizione, ve lo metto Mi raccomando ti darò a seguire perché ragazzi è veramente un top player E lo dimostrerà non in coppia, non in team insieme a me Però lo sta dimostrando con le coppie Io vado ragazzi, ho messo il pronto Non me lo fa mettere, ho talmente tanta mano Questo è il destino No, non vorrei che fosse un problema di connessione Aspettate ragazzi che cambio la connessione Evitiamo fail Il problema dei drop Siamo tornati, questa volta ci siamo Per poco ragazzi partiva il matchmaking prima Lasciate stare panico generale Ci siamo Non ci trova neanche i giocatori Io mi sto sentendo Ricerca giocatori vuoto Ma ecco ragazzi non sa da fare Stiamo baggando il game Io ve lo dico Paolo si è baggato Ecco cosa succede a giocare con il primo mondo Con un Grax a 4500 trofei Un signor Nemo Secondo me questo è un segno del destino Non dobbiamo startarla secondo me Non va ragazzi Non sta andando Ecco Ecco Ma che sta andando con il livello 5 Te prego randomini Voglio randomini regà Voglio randomini Non ci trova nessuno No ma quali randomini Quindi qua beccamo il timmone Quello proprio coatto Paolo ci dà la possibilità Di una partita Quindi un meno 5 Vale timmone di 3 Potenti regà Nella norma Dove vado sulla destra Sono semi Semi pro ma Io provo regà Ce l'ho battuto in pareggio Ah ok Buono regà Eh si Buono regà Oh mio dio Buono regà Regà è stato bello È stato un piacere giocare con Paolo Grazie Paolo Per questo fantastico video La loro primer è molto forte Oh my god No regà Non riesco neanche ad uscire dal push Ragazzi mi sento in colpa Ho fatto perdere 5 coppa al primo in idade 5? Sì Sei no Ancora peggio Mi fate muovere Ragazzi non riesco neanche a uscire Non mi avevo voluto fare Una mossa del trampolino Ma mi sento costretto Non riesco a uscire C'è l'orzaccio che ci sta massacrando Allora Paolo Se hai qualche consiglio da darci In questa circostanza Non credo Ma mo 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 Tranquillo Guarda 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 Ma ci penso alle mosse Ti fammi andare a destra Ok Tu a destra O a sinistra Se la gambe Chiamo te giuro No 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 All'orso di nita Mi caccio la maglia Ti dico Mi caccio la maglia Bello storso Ti è piaciuto fra? Sì Vi giuro regà Mi metto a petto nudo eh Se la gambe chiamo Però non lo posso fare Perché Bella ulti Bravo Che ulti bravo Sono morto male al centro Se prendo la gemma è finita Rega Belli le bombettine Il signor Paolo Ok Fine di game Probabilmente No 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 Tranquillo Tranquillo C'ho ancora un sentore positivo Certo se mi snap erate in 28 No però È stato un piacere ragazzi Abbiamo beccato il pre-made Comunque ragazzi fate caso in top Come non sbagliano un colpo No vabbè ragazzi Lasciate proprio stare Io non ho fatto niente ragazzi Non è imbarazzato Mi ho fatto saltare un orso Mi sento abbastanza soddisfatto di questo eh Posso vedere le coppe degli altri Perché questi erano veramente devastanti Io ho droppato pure stecca Bene Che spettacolo Tranquillo Aspetta Aspetta ragazzi No vabbè 12.600 Però adesso cambiamo ovviamente 12.600 E 13.000 Ragazzuoli Comincia adesso il vero video Comunque non giocate con il primo in Italia Perché prendete gli schiaffi Se non siete dei top No quelli sono normalissimi Solo che tu sei molto sottolivellato Quindi Sono molto scarso Sono molto scarso Lo dico io Vamos regà Adesso possiamo farcela Erci Corione Quindi Il Nemos nella sua versione originale E Paolo The Best 2 Che è il secondo account Comunque Se non è a run In 6.000 coppe ho visto di sfuggita Pulito dai Come secondo account Più coppe di me Ma che ci vuole Ci sta Allora se vogliamo fare cose matte Io mi lascio bull No sei un matto Cioè tu quindi vuoi saltare E andargli a prendere in face Ma il livello 6 bro Ci vogliamo provare Ma come al 500 Ah bene Dai la prendo bo Prendi quello che preferisci Attenzione Attenzione Torna il vero Grax È l'unico brawler Che so leggermente utilizzare Vado Ragazzi La comp più strana del 2019 Via Faremo coppe Faremo coppe O magari che ne sai Scopriamo Il bug del giorno No Attenzione Attenzione Questa comp ci fa le 17 mela Bella pe Antonio Signor Paolo 17 mila io sì Bella pe Antonielo Allora io voglio vedere Un cicorione volare Cioè lo voglio vedere volare Volare? Ma tipo così fra? Super fly per il cicorione Vai mangiatelo fratello Tiè Si comincia col bo No morto male Vabbè No no che morto No 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 Ventissimo Mi è arrivata una sfera I believe I believe I believe I'm not Bella ulti Bravo Bravo Antonio Bella per il cicorione Che vola Allora Paolo Prende le gemmette Io provo a colpire Quella Comunque sono maxati Anche a 6.000 coppe Cioè ci stiamo scherzando Ma sono maxati Ragazzi Io stavo solo saltando C'erano instabilità nel team Mappa più strana no Oh Centro Dai questa la cambecchiamo Questa me la sento la cambecchiamo Dana Mike regà non serve a niente Dana Mike non serve assolutamente Oh Bam Becca del cornacchione Vai che è nostro È volato Mamma mia Paolo Quanta pre No vabbè regà Io non c'ho parole Grax vola Butta la bombetta Non l'ho preso Cerchietto sotto Is the way Sì in pratica Quando salta Tu vedi il cerchio Sarebbe una sorta di ombra E da quella capisci dove è a terra Vabbè mostruoso Guarda Anthony Da quella parte Bella la ulti di Anthony Grax è cariato Come dice Manny Madonna Aspetta aspetta È combattuta questa Io sono morto male Cioè sto facendo la figura del pollo Ma che sto a fare Che ha Probabilmente perdiamo Però Se lui se Fa l'ingordo Bene 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 Vai Vai fratellone Bella ne mossetto Io devo togliere Sto cavolo di Anthony Non riesco a tirarlo giù Regà È impredittabile Prendi queste Mora ci vado io lì Oh No E dai Mostruoso Non va giù Immortale Mi sta massacrando In tutti i modi Dove serve più una manovra Aspetta aspetta Famo qua Guarda Anthony Ormai è una questione di principio Regà No 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 Lo posso far fuori una volta Bella Buono Dovrei essere Oh my god Ho fatto una giocata Oh E finalmente La kill La kill Nelle mossoni Attenzione Qua si spinna Qua spinniamo ragazzi Dai ci facciamo gli t-bag Facciamo gli t-bag Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Cambia tutto ragazzi Cambiazione È un altro Questo bule livello 6 A 500 Quanto va Questo signor Nemos Va bene Utilizzato da una mic Ho dimostrato di potermela giocare Non è vero Fatto schifo Però Vado a cambiare Stavolta voglio riprendermi il signor secca Perché ho un contenso speso Guardate Mi prendo La nita appositamente droppata Guarda che bella Ogni giorno La troppo Ma come 170 In realtà Quello che voglio fare Io Grado 20 Zero Trofei Però non so Se si può farlo Dai si può fare No Non si può fare Non si può fare Non si può fare Non si può 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 Penso sia impossibile Per rifarci dalla sconfitta Sull'account principale Altre due vittorie Se no veramente Siamo Da rinchiudere Dobbiamo giocarcela benissimo Guarda quella nita Questi non sono neanche maxati Questa è robetta nostra Questa è robetta che fa Per noi Erano maxati Erano maxati Però gli mancavano Vabbè Io credo che questa Sia carne da macello Per il signor Paolo Te do un aiuto Vabbè Che cinema Sacra facile Guarda l'urzacchietto Al centro Non è carino Sacchietto È bello Olè Signorina Ho sbagliato la ulti Lol Signorino Bella kill Eh credo che Dana Mike Non ci stava prima Bella ulti Bravissima Così si fanno le ulti Bam Bam Guardalo come vola Come vola Questo bamb Sono morto io Sono morto io Mi sa che È rimasto solo Paolo Sì sì Però sì Tanta roba Io sto prendendo solo schiaffi ragazzi Cioè io sto guardando Paolo giocare E non vedo neanche il mio player Per farti Signorina Sono arrivato Che so ste cose Ok Questa è robetta mia Vai vai Facce sta Robetta mia Questa è robetta mia Se levamo sto salame Ciao Ciao Al pandino Oh sette paura Sette gemmine quel signore Eh sì No stanno vincendo In teoria Però le nostre risorse sono Bella Bella Eh ma Segnostrattenti su bo Aspetta aspetta Paolo Vai Paoletto Ci penso io Un bell'orsetto Eccolo Bello Sì Buono Ulti Ottimo Bella Scicorione Ne ho preso una scusa Sordi Perfetto Perfetto Benissimo Quello deve andare giù Regà L'aquilotto Vole un'aquilata C'è Non gli basta Il tempo Non dovrebbe passare Un duetto Un 15 secondi Tiè Tiè Beccate i popcorner Tiè Tiè Guarda La stavo a fare Regà Ma io lo facciamo Oh No 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 Oh Come vuole Paolo Bella Ben Mary Poppins Ovviamente star player GG Altra vittoria E corrigo leggermente meglio Dai Frank addirittura Stai usando forse troppo Io andrei Non lo so Chi mi consigliate Jesse Troppatissima Brock Troppatissimo Quello che ti pare Dai Brucchino Regà Abbiamo quasi fatto una comp Più strana di quella di prima Dai Broccolotto mi piace Mettiamo il broccoletto Mi raccomando ragazzoli Se volete altri contenuti del genere Un bel pollicione all'insù Se volete che droppiamo altre coppe Paolo sto scherzando Paolo sto scherzando Un bel pollicione L'iscrizione al canale fondamentale Ragazzi Non ve lo dimentico Capito Quando parlate Nemos Invece non scherzano No 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 Nemos Anzi ragazzi L'ho detto 70.000 like E droppiamo male Nemos Lo facciamo tornare a 11.000 coppe Ma guarda Alla Sto Frank Forse ho usato troppo Eh Io te lo dico Ho fatto un po' Questa forza è un po' troppo Eh Quando account proprio Scopro il divertimento In questo gioco Questa forza è un po' troppo Però Io non te lo volevo dire NEM C'è anche Bella Bella Guarda che Frank In realtà c'è sta pure Mamma mia What a chi Io mi sto emozionando Ragazzi Dopo switchiamo un lato Sì Arrivo di là Mi sto emozionando Comunque cominciamo Sempre un po' malaccio Poi dopo Deliro Vabbè Non è che cominciamo malaccio Fra si è mandati Contro i pro Bomb No non è morto LOL Do Simone Grande Paolo Leon invisibile Ti do una mano Bella Kill Sono morto però al centro Raga Tranquillo Allora questa in realtà Probabilmente Andremo a perdere Questa la vedo Molto più complicata Infatti Però aspetta 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 Signor Nemossetti Non lo so Ti dirò eh Io mi ho mandato Una ulti veramente pessima Sono morto come un cane Ti ho lanciato mezzo razzo Morto Sono morto come un cane Però è un 8-5 Via Devo andare sulla destra Sulla sinistra 8-5 È sconfitto 80% Però Sì adesso Zompo Faccio cose Dai Fagli sentire la mazza Fratello No No non mi pare il caso Dai Ermazone Ma non è possibile Che ammoglio In botta su botta Sto fa schifo Sono emozionato Eh questo è tosto Oh mia Frank è proprio Un odio puro Questo è veramente tosto Ah no 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 Aspetta aspetta Salimo 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 Tu ce l'hai la coltica No Però lo posso caricare Dovrebbe Mi servirebbe un altro colpo Dai è buono Vai Vai Oh 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 Mi sento Mario Mi sento Mario Via 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 Paolone Paolone torna a casa Paolone torna a casa Paolone dove sei? Paolone torna a casa Oh mio dio Non ci credo regà Il furto della vita Mi faccio uccidere Non mi interessa Sting Sting E Paolone Applausi ragazzi 80.000 like 80.000 like Cosa ha fatto il primo in Italia Insieme al cicorione Comunque la mia ulti A contribuire Ragazzi io mi fermo qua Massima è andata Vi do l'appuntamento Sul canale del cicorione Perché uscirà sicuramente La seconda parte Io ringrazio ovviamente Paolo per il supporto Che poi metterò ovviamente Il link qui sotto In descrizione Al proprio di Instagram In iscrizione al canale Canale di Nemos Un bel pollice all'insù E noi ci becchiamo domani Con un altro contenuto Top di Brawl Stars Grazie ragazzoli Grazie Paolo Per la disponibilità Ciao In bocca al lupo Per la scalata caro Ciao grandissimi Ciao ciao Grazie Ciao